care amiche ed amici eccomi di nuovo tra tutte e tutti voi purtroppo ho trascurato di trasmettere in sprecher perché ho dedicato molto del mio tempo a creare video per il mio canale di youtube San Ten Chan che tra l'altro giusto il giorno del mio compleanno il 26 gennaio del 2017 di quest'anno come regalo di compleanno ho ricevuto inaspettatamente da AdSense la cifra molto importante di 150 dollari da cui naturalmente sono state detrate delle cose delle spese per cui posso dire tranquillamente che sono un po più ricco di prima notate l'ironia dopo quattro anni di fare video sono più ricco di prima e adesso tolgo la protezione al cellulare poi sono ritornato in sprecher e ho notato due cose primo che ho perso un po di scritti perché era da molto che non trasmettevo secondo che non solo si è ridotto il limite della diretta a un quarto d'ora ma anche il tempo a disposizione adesso non c'è più dieci ore complessive ma ne ho quattro come penso tutte e tutti voi quattro cinque ore ebbene bando alle ciance perché voglio salutare i miei amici innanzitutto i miei più amici di facebook sebastian sguazzin che mi segue in facebook e in youtube mi chiede stai facendo pochi video e spero non ti sia mancata l'ispirazione no il fatto è che forse mi manca il tempo ma è anche il fatto che mi demoralizza che difficilmente c'è c'è un buon numero di video che raggiungono le mille visioni e c'è un buon numero di video che superano le mille visioni 5.000 4.000 6.000 12.000 però generalmente per arrivare alle mille visioni deve passare più di un anno allora quello che mi demoralizza perché io ho fatto video nell'ultimo mese negli ultimi due o tre mesi e difficilmente superano le cento visioni allora così non so se si può andare avanti perché io sono disoccupato e vorrei che youtube mi desse qualcosa ma qualcosa non è ogni quattro anni 150 dollari che sono poco più di di 170 euro se no veramente che cosa ci compro una formica al giorno fatemi capire allora caro sebastian sguazzin non mi manca l'ispirazione è vero che i primi anni qualsiasi cosa mi veniva da caricare in youtube la caricavo senza pensarci su comunque devo dire che di questa applicazione di sprecher quello che ha migliorato è che poi già caricare di antemano la foto per poi compartirla nei nei media come facebook e nei social media quindi che dire poi mi hanno chiesto di salutarli altri miei amici simone poggi che mi segue molto in facebook e guarda i miei video forse attraverso facebook di youtube ciao simone poggi ciao sebastian sguazzin e la sua compagna la compagna di simone poggi saluto che anche lei mi segue sofia lai poi saluto il nostro amico pedro ganso che mi segue moltissimo mi ha anche dedicato un video estrapolato da uno mio e per quello che se vuole continuare a collaborare con me facendo delle cose creative con i miei video può sempre farlo e poi saluto tre integranti della famiglia guallera corrado guallera riccardo guallera e se per caso c'è qualcuno che è anche amico mio e mi sono scordato mi scuso con lui o con lei ma ho cercato nel cellulare tutti i messaggi che mi hanno mandato e non sono riuscito a trovare molto perché nel cellulare non puoi andare molto indietro nella linea del tempo e non sempre accendo il computer proprio perché il mio computer è un dual core il duo con sistema windows 7 del 2010 non ho voluto attualizzarlo mentre questo cellulare che è un motorola moto its seconda generazione uscito nel 14 mia madre me l'ha regalato per il natale e compleanno perché io compri gli anni il 26 gennaio del 2015 quindi natale 2015 compleanno 2016 quindi è molto più giovane come apparecchio che il computer quindi se io diminuisco l'utilizzazione del computer per stare più tempo a fare le cose che faccio anche nei social forum col cellulare forse gli allargo la vita al computer perché io non so se mi potrò comprare un altro computer o un altro cellulare poi mannaccia mi si è rotto il samsung galaxy young del samsung galaxy young 56 60 che uscì nel 2011 e mia madre me lo comprò per il compleanno del 2013 compleanno natale come sempre risparmiamo facciamo due regali in uno e che che mi si è finito di rompere perché va in lop non so se la batteria ma è un bottone credo di accensione che si rimane incastrato ogni tanto funziona proprio sul finire del 2016 quindi mi è durato quattro anni una cosa così 13 14 15 16 beh circa tre anni quasi quattro anni perché se si sarebbe rotto a gennaio del 2017 sarebbero stati quattro anni invece si è roto a fine 2016 quindi tre anni virgola 9 beh allora ho fatto tutti i saluti che dovevo fare che avrei dovuto fare girando un video voi vi sarete sarete chiesti ma perché non hai fatto un video beh perché volevo ritrovare il gusto di fare un programma per sprecher mi ricordo ancora quando ho fatto ebbene quando ho fatto le mie prime trasmissioni in sprecher con il galaxy young 53 60 come uno si sentiva libero di andare con in qualsiasi luogo con il wifi a radio trasmettere realmente è come avere una stazione radio nel tuo cellulare e puoi dire quello che vuoi certo io non ho molto pubblico perché io mica faccio trasmissioni musicali mica faccio nulla del genere poi voglio salutare il mio caro amico claudio wolf che si fa chiamare anche claudio show che mi segue in sprecher in youtube e in facebook e che lui è presente mi sembra come claudio wolf in youtube e come claudio show in facebook e in sprecher poi c'è anche una stazione radio dove lui collabora che non mi ricordo adesso come si chiama purtroppo appassionati del dilettanti radio radio calcio dilettanti credo un saluto anche a lui ea quelli di radio calcio dilettanti rcd beh più che altro questa trasmissione se ne va in saluti poi naturalmente ho tanti temi da trattare ma volevo ritornare a trasmettere dal vivo innanzitutto per vedere quante e quanti di voi mi avrebbero seguito dal vivo poi volevo cioè volevo chiedervi voi a che ora mi seguite di più e che state facendo adesso che devono essere le 16 in italia se state tornando dal lavoro se andate a lavorare a studiare se portate figli nel ginnasio se mi ascoltate dalla macchina dal computer dal cellulare che fate insomma comunque ecco questa diretta la finisco qua non voglio finire i cinque minuti che ho ancora a disposizione così magari userò più proficuamente perché non mi sono scritto nessun copione non ho impostato nessun discorso e non voglio abusare della vostra pazienza avendo salutato tutte e tutti gli amici qui il vostro santenchan vi saluta cercherò di fare dei video di youtube al più presto un arrivederci e grazie di seguirmi ciao a presto amici ed amiche il vostro santenchan vi saluta ciao